Cari amici del Triveneto e dell'Emilia Romagna, ben ritrovati come sempre da Giuseppe De Vitis. Nel complesso sarà un venerdì ed un sabato, con tempo bello, stabile e ben soleggiato in generale su tutto lo stivale italiano ma anche sul nord Italia. Qualche disturbo però venerdì ci sarà proprio sul nostro territorio, ma vediamo dove e quando si verificheranno questi isolati scrosci di pioggia. Al mattino cielo prevalentemente sereno o al più con velature in aumento ma attenzione nelle ore centrali della giornata sul Trentino Alto Adige, soprattutto sull'Alto Adige, sui rilievi alpini del Veneto e poi guardate in serata sul Friuli Venezia Giulia avremo dei rovesci di pioggia se non addirittura qualche isolato temporale. Ma solo in queste zone montuose sul resto del territorio invece continueremo ad avere una bella giornata ben soleggiata solo con qualche nuvola di passaggio. Vediamo le temperature minime che non faranno registrare cambiamenti significativi, per la verità non ci saranno grandi cambiamenti nemmeno per quanto riguarda le temperature massime, almeno su zone pianeggianti le temperature rimarranno molto miti, piacevoli, così come abbiamo avuto temperature miti e piacevoli nei giorni scorsi, ancora nella giornata di venerdì le temperature rimarranno sostanzialmente miti. Guardate infatti i valori localmente potranno raggiungere anche i 24 o 25 gradi. Per ora amici mi fermo qui, come al solito vi auguro di trascorrere un buon inizio di fine settimana.